La stoffa, il materiale utilizzato da Maria Barbara De Marco per creare le sue opere, diviene al contempo maschera che modifica il corpo di chi le indossa e ne muta lo sguardo e costume che tramuta il corpo dell'uomo in quello di un angelo o di un cavaliere medievale. Le sue opere ci parlano di un artista che si avvicina all'arte, intesa come creatività, ma non dimentica l'accezione greca di arte come tecné, che si avvicina alla tradizione e all'artigianato, che diventa design innovativo e scultura. La stoffa, cui l'artista da forma, viene trattata con grande rispetto. La sua natura malleabile non subisce alcuna violenza. L'avvicendarsi di morbidezza e parti dure non è realizzato con artifici, ma con il lavoro manuale dell'artista. Le cuciture modellano e danno forma e vita alle opere. È un'arte viva, ma anche un'arte da indossare e vivere, perfetto complemento del nostro corpo, costume e maschera. Arte organica è il nome che l'artista stessa ha coniato per le sue opere. Arte organica è il nome che l'artista stessa ha coniato per le sue opere.